Se fossi milionario, resterei a letto con te tutto il giorno. Stiamo mandando via della gente, John, e tu sei il primo. Abbiamo molti candidati per questo lavoro, tutti con almeno dieci anni di esperienza. Ok. Le cose andranno meglio. Tra una settimana c'è lo show dell'antiquità. Quariato, cerchiamo qualcosa da rivendere in tv. Mi dispiace tanto, amore mio. Guarda, ti regala del denaro quando ti fai male. Promettiamo di fermarci prima di perdere il controllo. Arriviamo a un milione e ci fermiamo. Voglio una brasiliana completa. Togli tutto. Facciamo alla vecchia maniera. Allora, John, lavori sempre nello stesso posto? Siamo passati nel settore investimenti. Mi pare ve la passiate bene. Shabbat shalom. Dove hai nascosto la teiera? La nostra nonnina ha rischiato la vita per salvare quella teiera durante l'olocausto. Dobbiamo scoprire che diavolo è quella cosa. La teiera possiede poteri straordinari. Voi due siete in grave pericolo. Tutti si ammazzano di lavoro per non arrivare a niente. È un dono degli dèi. Dobbiamo fermarci. Ci ha preso troppo la mano. Sì! Siamo oltre il limite. Stai diventando malvagio. Non c'è niente di malvagio nel volere di più. Ma che diavolo hai fatto in faccia? Hai un occhio che ti pende di fuori. Farmi! Farmi! Prego! Qualsiasi cosa stia succedendo non ne vale la pena. Vi avevamo avvertiti. Scolaccia, oui! Di Carrazza è il cane che avete preso. Lo sentivo notrare ieri notte. Era solo un po' di sesso selvaggio. Piaciuto il video? A me sì. Allora, oggi vi racconto una curiosità interessante su Jennifer Lawrence, che ci piace tanto. Allora, dovete sapere che i suoi genitori non hanno sempre sostenuto la sua voglia di recitare. Anzi, a dire il vero, in un'intervista a The Globe and Mail, Jennifer ha detto che scoperta la sua passione artistica le dissero Che diavolo stai dicendo, Jennifer? Ah no, no. La frase non era esattamente questa. Era questa. Se vuoi puoi farlo, ma noi non ti pagheremo nessun corso di recitazione. Oh, e la ostacolarono in ogni modo. Pazzi. Bene, avete imparato qualcosa oggi? Non ascoltate mai i vostri genitori. Bene, iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle ultime novità cinematografiche in uscita e su grandissimi consigli. Ciao! Ciao!